eccoci qui ciao a tutti e bentornati sul canale con questo video interamente dedicato ai lego andremo infatti ad unboxare insieme questo mega pacco che mi ha inviato vendilo shop guardate qui quanto è grande ed inoltre andrò ad elencarvi una serie di set che trovate su vendilo shop punto it col 30 per cento di sconto inutile dirvi che il 30 per cento è un signor sconto per i set lego promo attiva già da oggi lunedì 21 novembre tra parentesi anche il mio compleanno fino al 28 novembre quindi avete una settimana di tempo per decidere quale set acquistare chiaramente fino a esaurimento scorte ci sono dei set davvero molto molto interessanti due di questi set al 30 per cento sono qui dentro dunque non perdiamoci in chiacchiere e unboxiamo imballaggio come al solito ottimo parto dal set più piccolino ci lasciamo quello più grande per dopo set protetto pluriball e tutto attorno cartoni e carta il primo set è il 76388 il villaggio di hogsmeade sono molto contento è uno dei set che volevo recuperare tra l'altro fa parte dei set per la celebrazione dei vent'anni di lego harry potter è abbastanza semplice come set ci sono due delle attrazioni delle attività principali del villaggio di hogsmeade quindi mielandia da questa parte è il pub dei tre manici di scopa ed in più ben sette minifigure tra cui una dorata perché in questi set dei vent'anni trovate sia una un personaggio dorato che alcuni tile con le figurine dei maghi e delle streghe random che vi possono capitare questo è il retro della scatola qui c'è il tile con la figurina dei maghi e delle streghe famose come si trovano nelle cioccolane e ci sono anche delle figure abbastanza interessanti come i proprietari di mielandia e madame rosmerta per la quale come sapete benissimo ron ha una cottarella ecco qui tutti i personaggi presenti mi ricordo che questo così come quello che vedremo tra poco lo trovate al 30 per cento su vendilo shop punto it passiamo al successivo il 76389 la camera dei segreti questo è decisamente più grande dovrebbe essere 40 centimetri di altezza per 40 di larghezza come potete facilmente notare il design del castello soprattutto per quanto riguarda i tetti e torri riprende quello dei primi set lego decisamente diverso da questi qui qui le varie minifigure presenti qui tra l'altro c'è la professoressa sinistra non è facile trovarla è il bellissimo nick quasi senza testa glow in the dark questo invece è il retro spero di evitare i riflessi qui in alto la torre di astronomia sotto l'ufficio di alloc e subito sotto l'aula di difesa contro le arti oscure entrambi super allocchizzate la sala grande che potete utilizzare ovviamente per il club dei duellanti poi sotto sapete benissimo cosa c'è la camera dei segreti con tanto di basilisco e statua di salazar serpeverde ci dovrebbe essere anche uno scivolo che riporta i personaggi direttamente all'interno della camera entrambi questi set sono ovviamente dei play set sono dei set da gioco potete ovviamente decidere di esporli e tenerli in collezione esattamente come ho fatto io qui con questi tre set di Hogwarts purtroppo per mancanza di tempo non li aprirò in questo video probabilmente trovate già delle foto di questo di hogsmeade sul mio profilo instagram andate a seguirmi se ancora non lo fate mentre per questo della camera dei segreti che è decisamente più grande impegnativo probabilmente mi ci dedicherò durante il periodo natalizio lo troverete sicuramente come posto come stories su instagram grazie mille vendilo shop vi ricordo ancora una volta che entrambi questi due set li trovate al 30 per cento di sconto e non finisce qui mi armo di telefono perché in sconto ci sono anche altri set harry potter il 76402 l'ufficio di silente set abbastanza semplice ma molto carino se volete espandere ed ampliare il castello il 76407 l'astamberga strillante e il platano picchiatore molto interessante per gli amanti del prigioniero di azkaban anche questi sono playset ma potete esporli benissimo in collezione perché sono belli il 75969 la torre di astronomia questa per intenderci che trovate sul canale in un altro video sempre in collaborazione con vendilo e per concludere i set harry potter in sconto c'è il 76403 il ministero della magia anche questo è un set abbastanza semplice ma molto interessante per quanto riguarda le minifigure perché se vi ricordate nei doni della morte parte 1 henry ron e ermione entrano di nascosto al ministero con le sembianze di mafalda hopkirk albert rancorn e rage cutter mall praticamente ci sono queste tre minifigure di henry ron e ermione potete cambiare la capigliatura e girare il volto e si trasformano appunto nei loro personaggi trasformati con la porzione polisucco molto molto interessante poi è bello comunque il design del ministero anche se il set è semplice ve lo consiglio questo ve lo consiglio come potete facilmente intuire non ci si ferma solo ai set harry potter ma c'è tanto altro come ad esempio questa posso mostrarvela il 42127 lego technic della bat mobile di the batman molto molto bella il batman con robert pattinson questa l'ho acquistata qualche mese fa proprio sul vendilo ed è molto molto figa altro ci sono le luci sia qui che qui il motore 30 per cento di sconto restando sempre in tema technic ma questa volta per gli appassionati di fast and furious il 42111 la dodge charger di dom toretto poi ancora l'elicottero di salvataggio airbus h175 e l'autogru pesante sempre technic non potevano mancare anche i set a tema marvel come ad esempio il 76193 l'astronave dei guardiani della galassia questa è molto molto bella interessante è proprio figa come design e poi ancora il 76216 l'armeria di iron man cavolo per finire con i marvel il 76192 la battaglia finale da avengers endgame passiamo al mio adorato star wars ce ne sono un bel po il 75314 lo shuttle di attacco da the bad batch che tra l'altro dovrebbe essere esaurito sul sito lego quindi approfittate se vi interessa il 752 non ci sto più a capire niente con i numeri il 75326 la stanza la sala del trono di boba fett da the book of boba fett il 75302 un grande classico lo shuttle imperiale il 75336 il trasporto dell'inquisitore site molto interessante soprattutto per le minifigure perché c'è il grande inquisitore ben kenobi il quinto fratello riva e per finire e qui ci sto facendo un pensierino seriamente anch'io il 75337 lei tti walker il camminatore dei cloni che abbiamo visto ad esempio su utapau tutto ciò che riguarda i cloni ha sempre grandissimo successo sono bellissimi i veicoli e quindi col 30 per cento probabilmente sarà tra quelli che termineranno prima poi ci sono altri set lego creator come la nave dei vichinghi oppure la nave dei pirati diversi set lego city ma anche un set dedicato a jurassic world dominion lo scontro tra il giganotosauro e il terezinosaurus e svariate altri set al tema ninjago oppure dedicati ai più piccoli e quindi con i duplo comunque qui sotto in descrizione trovate o il link che vi rimanda direttamente alla pagina con la lista dei vari set in sconto oppure inserirò ogni set singolarmente credo di avervi detto tutto è sicuramente un'ottima occasione se vi siete lasciati indietro qualche set che volevate per recuperarlo e ringrazio ancora una volta vendilo shop per questi due se li volete vedere montati vi rimando sul mio profilo instagram questo arriverà subito questo ci vorrà un po più di tempo vi ringrazio per aver visto questo video se avete apprezzato lasciate un pollicino all'insù fatemi sapere qui sotto nei commenti se avete già approfittato di una di queste offerte o se cercate qualche altro set ovviamente su vendilo shop trovate questi in sconto al 30 per cento ma ce ne sono tanti altri anche i set nuovissimi appena usciti grazie ancora e appuntamento alla prossima si va a costruire